Sono pronti i giovani ad entrare in agricoltura innovando davvero? Questo è il nostro auspicio, stiamo attivando i bandi sia dell'innovazione che dell'insediamento dei giovani. Il primo bando giovani è già scaduto, ne apriremo un altro a brevissimo perché è uno degli obiettivi fondamentali. Se vogliamo innovare l'agricoltura regionale dobbiamo puntare sui giovani perché hanno una prospettiva di lavoro a medio-lungo termine e poi sono più aperti, più flessibili e disponibili proprio a sperimentare cose nuove. Quindi il binomio giovani-innovazione è sicuramente fondamentale. Oggi qui ci siamo incontrati per approfondire il tema dell'innovazione e della conoscenza nel settore dell'agricoltura valutando con i giovani delle scuole agrarie, istituti agrarie ulpiani e l'istituto di Macerata per i studenti del quinto anno, istituto tecnico, per presentare le linee di intervento del CSR nel tema dell'innovazione e della conoscenza in agricoltura. Quindi formazione, consulenza per le imprese, sperimentazione, ricerca e tutto quello che è appunto il gruppo di interventi che sono sei interventi in questo ambito.